AgroVensor del dottor Bruno Folchi ha sede in Italia e negli Stati Uniti ed è specializzata nello sviluppo degli agenti di biocontrollo per la difesa delle piante in agricoltura. Stiamo arrivando alle fasi conclusive della registrazione del nuovo agente di biocontrollo Easy East sviluppato dall'AgroVensor, è stato scoperto dall'Università del Molise e oggi andremo a incontrare i ricercatori e i professori che hanno collaborato allo sviluppo del prodotto e alla conoscenza profonda di tutte le sue caratteristiche tecniche agronomiche per l'utilizzo contro le malattie delle piante. Il ceppo PT22AV è un ceppo che si adatta bene all'ecosistema suolo, infatti applicando il prodotto Easy East si arricchisce questo ecosistema di un microrganismo che si insedia nel suolo ma soprattutto a livello radicale. La radice cerne nell'ambiente circostante ad essa una serie di nutrienti che vengono considerati come sudato radicale che sono dei nutrienti che supportano il microbiota. All'interno di questa comunità microbica potrebbero insediarsi dei patogeni e il lievito riproducendosi e consumando i nutrienti entra in competizione con questi, infatti in prove di campo abbiamo riscontrato una buona efficacia nei confronti di diversi patogeni dell'apparato radicale e del colletto. Il meccanismo d'azione è simile a quello che riscontriamo nella parte aerea in quanto questo lievito riesce ad adattarsi e consumare questi nutrienti e quindi creare un ambiente meno favorevole all'attecchimento di questi patogeni. Tra i patogeni meglio controllati c'è sicuramente rinzottonia, pitium e altri patogeni del genere fusarium, sclerotinia. Riesce a contrastare questi patogeni nella loro fase epifitica, quindi quando stanno consumando gli essudati radicali, il lievito inoltre riproducendosi crea delle colonie sulla superficie radicale andando ad impedire la penetrazione, competendo quindi anche per lo spazio. L'attività del lievito è un'attività che va ad influenzare anche la capacità infettiva di nematodi galligeni agendo con un meccanismo più o meno simile perché anche questi organismi consumano in una prima fase del loro ciclo vitale gli essudati radicali per colonizzare l'apparato radicale. Abbiamo sviluppato e quindi provato un nuovo prodotto di biocontrollo, in questo caso è l'ISI Vapilotrema terrestris prodotto dall'Agroventius. Il prodotto ha avuto dei buoni risultati per quanto riguarda il controllo di alcune patologie fungine che interessano l'apparato radicale, tra cui fizzium e rizoctonia. Nelle diverse prove che abbiamo sviluppate, sia in provincia di Caserta che in altre regioni come Sicilia, questo prodotto ha riscontrato un controllo notevole anche rispetto ad altri prodotti di biocontrollo, come ad esempio alcuni tricoderma o alcuni altri bacillus come i bacillus amilo liquefaciens. La quantità di prodotto che abbiamo utilizzato e quindi abbiamo sperimentato in queste prove è di un chilogrammo ad ettoro. Questo ci ha consentito di avere un buon controllo di questa patologia e inoltre si è riscontrato anche un'azione di biostimolo del prodotto sulle colture per cui è stato utilizzato. Questo prodotto sicuramente è interessante dal punto di vista anche per lavori successivi, quindi lavori di controllo successivo e infatti si è riscontrato anche una buona efficacia per quanto riguarda il controllo dei nematoti. Il prodotto sicuramente è interessante anche in vista dei residui per quanto riguarda le colture su cui viene adottato anche in un'ottica per quanto riguarda le riduzioni di impatto ambientale. AgroVensur prevede di poter lanciare sul mercato europeo e negli Stati Uniti il nuovo agente di biocontrollo Easy East con un'etichetta completa su tutte le colture e numerosi patogeni entro il 2026. I portatori di interesse hanno fatto richiesta per usi emergenziali per ottenere l'utilizzo di Easy East già nel 2024 per quanto riguarda importanti malattie come il colpo di fuoco batterico per le pomace, risottone e pittium per quanto riguarda i marciumi radicali nel pomodoro e per quanto riguarda le drupacee il Claudosporium Carpofillum.